Riportare un po' di entusiasmo a quello che mi ha rimancato nell'ultimo periodo. Il mio modo di giocare è che voglio proporre un calcio propositivo, come hai detto tu, con grande padronanza del gioco, come ho detto ieri ai ragazzi velocemente. Ho detto due cose che voglio dirvi. Una è che bisogna sempre avere il pallone e la seconda è che quando si perde bisogna recuperarlo velocemente. Quindi queste due cose sono state le prime cose che ho detto di tattica a loro e sono le cose a cui credo. Quindi penso siano le cose più importanti poi a livello più che altro mentale da far entrare alla squadra. Il modello non è un modello fisso, potremmo giocare sia a 4 che a 3, magari difenderci a 4, impostare a 3. Quindi mi piace un calcio di rotazioni, con gente in movimento, con gente che abbia voglia di attaccare, come ho detto prima, che abbia voglia e la gioia di riconquistare il pallone di come e quando lo ha in possesso. Quindi deve essere una cosa mentale da lavorare tutti i giorni e che venga poi naturale durante le partite. Adesso non sono a disposizione ancora tutti i ragazzi, anche perché dobbiamo rispettare il Covid e quindi stiamo facendo lavori a gruppetti. Però appena avremo tempo inizieremo a metterci in campo e a preparare qualcosa. Io ho sempre detto che i giocatori di qualità possono giocare insieme in qualsiasi squadra, basta che ci sia sacrificio e l'abnegazione di tutti. Quindi più giocatori in squadra di qualità ci sono e maggiori possibilità la squadra di vincere, però sempre all'interno di una struttura di gioco e con certi obiettivi da raggiungere. Quindi il sacrificio e la voglia di lavorare per la squadra va a prescindere da tutto. L'entusiasmo bisogna portarlo giorno per giorno, bisogna lavorare, parlare tanto con i giocatori, fargli capire certe situazioni, certe dinamiche di gioco, ma non solo, renderli partecipi negli allenamenti, ma soprattutto fargli entrare in testa il nostro nuovo modo di giocare. Quindi penso la cosa più importante da fare in questo periodo, anche perché non abbiamo tanto, è quella di parlare e fargli capire cosa vogliamo effettivamente. Quindi se non lavoro sul campo sì, ma tanto anche di rapporti umani e parlando di certi tipi di cose tattiche e psicologiche. sugli obiettivi, gli obiettivi della Juve sono sempre quelli di cercare di vincere. Non è facile, però siamo qua per quello.